Ben ritrovati, oggi parliamo della giornata nazionale della colletta alimentare che si tiene già dal 21 novembre. Abbiamo qui con noi per parlarne Massimo Capriotti, responsabile della colletta alimentare della provincia di Ascoli. Una nuova modalità quest'anno dovuta ovviamente all'emergenza Covid che abbiamo. Non raccoglieremo prodotti alimentari all'ingresso e all'uscita dei supermercati ma verranno effettuate delle vendite, delle card nei supermercati convenzionati in cui sarà possibile acquistare appunto queste gift card del banco alimentare dell'importo di 2, 5 o 10 euro e che verranno automaticamente convertite in prodotti alimentari che le catene aderenti distribuiranno ai magazzini del banco alimentare in tutta Italia. Ovviamente per questioni logistiche e di software di gestione saranno molti meno i supermercati convenzionati ma noi confidiamo nella generosità e nel nome, nella fiducia degli acquirenti che doneranno. Oltre alla vendita delle card nei supermercati convenzionati sarà possibile acquistare sul sito del banco alimentare le card. All'uscita dei supermercati acquistando queste card si otterrà anche uno scontrino di ringraziamento in cui verranno visionati direttamente i prodotti che conteranno l'importo donato. Quindi il banco alimentare non vedrà questi soldi ma vedrà direttamente questi prodotti consegnati nei propri magazzini. Massimo, come si fa per poter diventare volontario? Volontario basta rivolgersi nei banchi alimentari o comunque segnalare la sua volontà di aderire a questa iniziativa sul sito del banco alimentare www.bancoalimentare.it in cui ci sono le istruzioni e le soluzioni per poter aderire, diventare volontario alla colletta ma diventare anche volontario nei magazzini del banco. Massimo, con questa emergenza sanitaria cresce anche il numero di famiglie che hanno bisogno di aiuto quindi un appello a partecipare ad aderire a questa giornata? Certamente, noi sia nel momento in cui da marzo c'è stato il lockdown nazionale siamo stati subito operativi. Sono aumentate le persone in situazioni di bisogno e abbiamo aumentato notevolmente l'attività grazie anche alla donazione delle aziende, della GDO, dei gruppi alimentari e quindi è aumentata la necessità sia di prodotti che di volontari di supporto al banco alimentare. Vogliamo dare qualche numero dello scorso anno, quello che siete riusciti a recuperare? Allora, l'anno scorso nella zona della provincia di Ascoli abbiamo recuperato 30 tonnellate durante la colletta. Quest'anno stiamo arrivando ai numeri dell'anno scorso di distribuzione. Al momento, fino al mese di ottobre, eravamo circa sulle 800 tonnellate distribuite solo dal magazzino di San Benedetto. Chiaramente è un'attività continuamente in crescita perché le necessità aumentano. E quindi allora cosa possiamo dire agli ascoltatori? Beh, chiediamo di andare a fare la spesa nei supermercati aderenti nelle catene che aderiscono alla giornata nazionale colletta o altrimenti chi deve rimanere a casa o non può muoversi può fare l'acquisto delle card online sul sito www.collettaalimentare.it Grazie allora Massimo Capriotti e buon proseguimento su Radio Azzurra.